Come verniciare con una pittura spray Livello di difficoltà, un martello Con una vernice da nebulizzare, il risultato è impeccabile, anche su modanature e incavi Per le piccole superfici è sufficiente una bomboletta Serviranno una vernice spray, telo protettivo, nastro per mascheratura, foglie abrasive a grana fine, un pennello piccolo Dobbiamo avere a portata di mano un respiratore, occhiali di protezione e guanti in lattice La buona tenuta della vernice dipende dalla preparazione del supporto Sgrassiamo, puliamo e levighiamo delicatamente per favorire la presa Se dobbiamo verniciare un piccolo oggetto, costruiamo una sorta di cabina di verniciatura con un telo in plastica Se dobbiamo verniciare un termosifone che non può essere smontato, proteggiamo il pavimento e la parete di appoggio Gli spray sono disponibili in diversi effetti decorativi, per esempio cromato, zincato, vetrificato Scegliamo il tipo di vernice spray in funzione del supporto Prima di cominciare, agitiamo la confezione per 2-3 minuti, affinché le sfere all'interno rendano lo smalto omogeneo Per verificare il funzionamento, dirigiamo l'ogello verso un foglio di cartone e nebulizziamo Per prima cosa, rimuoviamo i cassetti dal comodino È preferibile verniciare su superfici verticali, quindi collochiamo il cassetto sui cunei e verniciamolo lato per lato Su un supporto verticale, nebulizziamo il prodotto a una distanza di 25-30 cm circa Lasciamo che sia il braccio a controllare il movimento piuttosto che il polso Restiamo sempre perpendicolari anche quando ci spostiamo Cominciando a nebulizzare il prodotto poco fuori dall'area da verniciare Spostiamoci a velocità costante, poiché il minimo indugio può far colare il prodotto Per ottenere uno strato uniforme, lavoriamo a z, uscendo dall'area a fine passata e rientrando per la nuova passata, parallela alla precedente Attendiamo l'asciugatura e applichiamo una seconda mano dall'alto verso il basso, incrociando le passate Trattiamo allo stesso modo tutti i lati dei cassetti Possiamo anche giocare con i colori Al termine dell'applicazione, capovolgiamo lo spray e nebulizziamo il prodotto su un foglio di cartone per 2 o 3 secondi per liberare l'ugello Puliamo il foro di uscita con uno straccio Sul termosifone, dobbiamo utilizzare uno smalto spray speciale termosifoni Se scegliamo di non smontarlo, proteggiamo le zone circostanti e il pavimento, poi passiamo alla disincrostazione Agitiamo energicamente lo spray e applichiamo lo smalto dall'alto verso il basso Procediamo per passate verticali sottili e regolari, prima verso il basso, poi verso l'alto E manteniamo lo spray dritto per evitare che coli Per eventuali ritocchi, nebulizziamo un po' di smalto in un piccolo contenitore e preleviamolo con un piccolo pennello La vernice spray è ideale con gli stencil murali, proteggendo con un telo le zone circostanti Lo spray è utile anche per rinnovare i vasi da giardino in pochi minuti Martellato o granitato, dobbiamo solo scegliere l'effetto decorativo Un metodo rapido per verniciare o decorare, secondo la nostra fantasia Un metodo rapido per verniciare